ciao a tutti ragazzi bentornati le migliori applicazioni belle come sempre cinque pronte per voi qui saluto subito l'utente più veloce dello scorso video giovanni canavera ciao giovanni sei stato veloce più volte ho visto che eri sempre tra i primi ti saluto molto volentieri chi ovviamente in questo video avrà il primo commento verrà salutato da un super saluto nel prossimo video per voi che siete super tecnicamente fantastici ovviamente grazie le iscrizioni continuate così ma parliamo delle applicazioni la prima un'applicazione per i bimbi youtube piace anche ai bambini e questa è una cosa oramai è risaputa ma c'è un'applicazione che si chiama youtube kids quindi youtube per i piccoli che dà la possibilità di avere dei filtri controllo genitori ma soprattutto dei video dedicati come questo solo ai più piccoli e questo secondo me la cosa interessante tanto c'è questa video presentazione che invoglia magari più i bambini a presentarsi al mondo dei video in una maniera più equa per loro impara oppure musica insomma ci sono quattro tipologie di impostazioni soprattutto si può impostare un codice per il filtro dei genitori che possono con una passata poi bloccare eventualmente tutti i contenuti o farlo usare quando vogliono al loro figlio da questa parte c'è le canzoni delle stagioni c'è un personaggio che per esempio balla vi faccio vedere il caricamento con il bambolino ovviamente vedete simpatico quello lì è che ci sono i sette corvi per dire se vi faccio vedere qualcosa no vedete c'è un annuncio anche qua che si può saltare tutto come youtube però ha fatto ovviamente in formato per i più piccoli che secondo me è interessante ecco qua vedete qui c'è whisky e il ragnetto che è una passione veramente dei piccoli e le coccolizioni lo trovate spesso su youtube insomma un'applicazione intelligente che porta youtube anche a un pubblico più piccolo come i bambini a me è piaciuta veramente molto ho deciso di proporvela come vi propongo zoom che è un'applicazione stile wish cioè migliori acquisti tantissimi prodotti in offerta dalla tecnologia all'abbigliamento su questo portale io l'ho impostato sull'uomo si può impostare anche sulla donna e vedete ci sono sempre tantissimi qui c'è un downloading c'è un qualcosa di strano a un euro è un sticker per il water dove si può metterlo la persona sono disegnata carini sono anche queste cose qua probabilmente la provenienza è molto dalla cina stile wish però ci sono tanti prezzi dei 10 euro 2 euro 1 euro insomma acquisto di impulso acquisto veloce e tempi di consegna non proprio brevissimi ma però niente male avete 11 euro ci sono anche queste cuffie che sono bluetooth e sono anche con i comandi poi direttamente sul padiglione auricolare carine di vari colori si possono ordinare insomma un'applicazione che mi ha colpito con la sua velocità veramente un rendering delle immagini molto veloce mi piace mi soddisfa tantissimi prodotti è in stile wish ma secondo me è migliorativa dal punto di vista dell'immediatezza e dell'impulso dell'acquisto ve la consiglio di scaricare e di provare e poi a magari a comprare qualche prodottino come meglio poi vegano ce ne sono veramente tanti ma tante sono le applicazioni ma clock master mi ha colpito è una sveglia pazzesca guardate che grafiche in hd che ci sono tantissimi quadranti ovviamente prossimo allarme alzati i giorni della settimana sono salutare tantissime sono le varianti qui c'è il calendario per poterlo anche sincronizzare con i vostri diciamo contattamenti calendari sono salutare esercizi bevi acqua insomma tantissime cose questa applicazione quindi ci fa da promemore per bere l'acqua gli esercizi fisici da fare e di tutta la settimana compleanni anniversario insomma perso riposa gli occhi tantissime cose poi alzati che la prima cosa è la sveglia la cosa diciamo principale ovviamente che noi andiamo poi a vedere io ho impostato questo tema si può toccare qui per cambiare tema vedete esce l'orologio romano veramente bello poi ci sono altri temi scaricabili insomma veramente molto personalizzata mi è piaciuta molto perché io adoro avere una sveglia di questo tipo che graficamente bella immediata piena di opzioni dalla sonno salutare al bevi l'acqua gli esercizi e a svegliarci con queste belle immagini sempre più bella guardate anche qua più semplice qua un altro quadrante con la coppa del mondo veramente una sveglia eccellente forse la migliore che ho mai testato ad oggi come personalizzazione piacciono molto le personalizzazioni le faccio spesso anche sugli smartphone e vado alla quarta applicazione un'applicazione di pulizia di cleaning nel vostro sistema android però molto molto pignola apus security 4.7 di rating mi è piaciuta molto vedete troppe notifiche pulisce insomma tanti consigli qualche banner pubblicitario ci sta per esempio ottimizziamo la memoria subito gli diamo l'autorizzazione la prima volta ram però vedete molto veloce graficamente molto valida veramente un'applicazione per la pulizia efficace come tutte le applicazioni l'efficacia è comunque è proporzionata all'utilizzo che si fa del telefono cerchiamo sempre di tenere il telefono più pulito possibile ed evitiamo invece di ammassarlo troppo e poi l'applicazione può fare miracoli insomma ecco qua ci cerca tutti i file da pulire ecco qua io sulla vericidità di 263 giga forse troppo diciamo che potrebbero esserci forse 260 500 mega un giga massimo forse sparano un po queste applicazioni giga di quelli la poi in realtà sono forse megabyte un po inferiori come numerica però comunque la pulizia la fa e solitamente 500 600 mega quello che poi io riscontro no anche se poi loro danno dei numeri un po più alti ma tutte queste tipo di applicazioni sicurezza wifi app lock risparmio energetico notification cleaner quindi la pulizia delle notifiche puoi pulirle ora e te le toglie tutte è un'applicazione ben fatta che gira bene vedete pochi banner pubblicitari uscito una volta molto personalizzabile veloce vedete qua c'è anche raffreddamento della cpu si possono fare tante cose in questo momento ho utilizzato molto per preparare al video il telefono scaricare applicazione tutto un raffreddamento un bannerino giustamente perché poi la pubblicità fa parte ormai un po di tutte le applicazioni e la chiudiamo andiamo avanti c'è l'ultima lo poli lo poli che cos'è è un album per disegnare una specie di alun per disegnare va bene per gli adulti va bene per i più piccoli ma molto particolare tutto in forme geometriche poi noi possiamo scegliere queste forme a collarle direttamente al disegno sempre questo questo nemo questo pesce vedete questo acquario con varie con vari pesce per esempio questo pesce qua questo è bloccato perché certi sono gratuiti certo la mente si pagano se si vogliono aggiungere ecco qua c'è la possibilità poi c'è piccolo vanerino pubblicitario di avere ovviamente il disegno di 39 secondi sono un po esagerato chiudiamo subito il tutto e passiamo alla conchiglia vedete qua ci sono tutti i pezzi numerati che vanno a comporre questo disegno noi dobbiamo trovare i pezzi che vadano a incastrarsi qua dentro la nostra conchiglia uno alla volta certo sono veramente tanti dobbiamo essere poi noi capaci di capire qual è il pezzo giusto vedete poi si ingrandisce alzandolo quindi potrebbe essere il primo qua vediamo vedete che l'ho trovato e probabilmente giusto in base alla sua forma il 2 potrebbe essere questo che ci va vicino vedete incominciamo a disegnare la conchiglia in una maniera vedete questo non è lui qua ci sono dei fili qua rosso vedete questo qua poteva andare qua il primo potrebbe essere questo e via dicendo veramente interessante perché è rilassante porta molti colori soprattutto non si disegna col dito con la penna come sempre ma si disegnano forme geometriche le si portano piano piano a compimento come in questo caso vedete poi si capisce dove vanno ed è semplice ma è molto molto rilassante ogni tanto ci vogliono anche questi tipi di cose da disegnare quando lo completate potete condividerlo insomma ci sono tante cosine carine o torno indietro lascio a metà strada vedete me lo memorizza ne voglio farmi la balena bellissima mi faccio la balena sopporto sempre il solito banale pubblicitario e dopo posso anche dipingere la mia balena come meglio credo perché alla fine è poi il proprio il bello del di questo tipologia di applicazione qui ho tolto un pezzo che non mi interessa lo posso lasciare a metà strada posso andare con il il pezzo qui poi posso andare con questo qua poi posso dare questo ma qua possiamo stare veramente tanto se sbagliamo il pezzo lo possiamo mente recuperare e spostare insomma un'applicazione un po diversa dallo solito ci dà anche dei suggerimenti insomma per poi dove mettere i pezzi al proprio posto ce ne sono veramente tanti c'è qualche banner pubblicitare un po esageratamente comparente però fa un po parte del gioco se lo riusciamo a sopportare non è un grosso problema vedete qua che ce ne sono veramente tanti nuovi tutti gratuiti quelli con l'uchettino invece bisogna sbloccarli con dei degli addono comprando poi a parte la possibilità di avere tantissime altre forme da poter disegnare erano queste le applicazioni quale mi è piaciuta di più beh questa volta è molto semplice è veramente un'applicazione semplice che di solito non premio forse la prima volta ma questa sveglia clock master mi è piaciuta veramente tanto stra personalizzabile guardate quanti quadranti omo gli orologi figuriamoci le personalizzazioni di smartphone in altissima definizione cambio tutti i quadranti che voglio oi quadranti belli o calendario o gli esercizi fisici o l'acqua da potermi bene sono tantissime informazioni per la settimana nonché una sveglia veramente l'avanguardia per una volta voglio provare un'applicazione semplice come la migliore del lotto da quattro capite che da paolo uguale tutto ciao e grazie come sempre siete super tecnicamente fantastici come queste applicazioni ciao